Fino ad oggi il gruppo MED era composto dalla catena negozi MEDSTOR, 20 punti ventita distribuiti sul centro nord Italia, fiore all'occhiello della nostra azienda che vanta la qualifica di Apple Premium Reseller. Il Team Education, dedicato a supportare le scuole ed università del territorio nell'adozione delle migliori tecnologie per la didattica digitale, a cui è stata riconosciuta la certificazione di Apple Authorized Education Specialist. 9 centri di assistenza sul territorio a cui è stato conferito il titolo di Apple Premium Service Provider, composti da 20 tecnici certificati grazie ai quali abbiamo ottenuto oltre il 90% di customer satisfaction. Oggi sono fiero di presentare un nuovo traguardo per la nostra azienda. Nasce MED Systems, un system integrator con la mission di portare un vantaggio competitivo tramite l'adozione di tecnologie all'avanguardia alle medio-grande imprese, pubblica amministrazione nel settore Enterprise. MED Systems ha recentemente ottenuto la certificazione di Apple Authorized Reseller, specifico per il settore B2B, portando il gruppo MED ad essere l'unica realtà italiana con tutte le certificazioni Apple, Retail, Education, Assistenza ed Enterprise. Ora voglio presentarvi il nostro staff di MED Systems. Francesco, a te la parola. Grazie Emanuele. MED Systems ha l'obiettivo di supportare l'azienda nel percorso di trasformazione digitale, semplificando i processi di gestione e distribuzione delle postazioni di lavoro e anche dei device mobile. Tutto questo mantenendo sempre alto il livello di sicurezza, anche nelle situazioni di mobilità o di smart working. Offriamo, dalla progettazione delle migliori soluzioni in ambito informatico, agli accessori esclusivi che permettono di semplificarne l'uso e offrire un vantaggio competitivo all'azienda. La nostra rete di specialist è a disposizione per una consulenza specifica, direttamente in azienda da voi. A questo punto è il momento della nostra Project Manager. Silvia, a te la parola. Grazie Francesco. Nella fase di progettazione ascoltiamo le esigenze del cliente e di conseguenza studiamo con il reparto IT e la nostra software house la soluzione ideale cucita su misura per l'azienda. Dopo aver analizzato tutte le varie fasi del processo andiamo ad integrare i sistemi all'interno dell'infrastruttura del cliente, in modo semplice, efficace, sicuro. E quando arriva il momento di passare alla sotturazione dei servizi tocca ad Alessandro. A te la parola. Grazie Silvia. I servizi sono il punto forte della nostra azienda, a partire dalla logistica integrata e dropshipping. Dedichiamo risorse di sviluppo per migliorare costantemente i nostri servizi post vendita, tramite un portale di asset management integrabile con i sistemi enterprise, dedicato alla gestione della flotta di dispositivi aziendali. Apertura ticket, pick up e return, scorta calda e gestione futto, tutto in un unico sistema. Inoltre facciamo sì che i nostri clienti possano consegnare i dispositivi direttamente ai dipendenti, i quali dovranno solo scartarli e sarà tutto già configurato. E ora passo la parola al nostro major account Michele. Grazie Alessandro. Con l'aiuto di altri 15 account Sales B2B e un team di tecnici sistemisti, siamo presenti sul territorio nazionale per offrire consulenze alle aziende ed aiutarle ad integrare le migliori soluzioni tecnologiche affinché possano ottenere risparmio, vantaggi competitivi ed accrescere il loro business. Questa è MedSystems, questo è MedGroup.